Noi crediamo di avere fatto la scelta giusta per l'Italia e per l'Europa. Anche se è costata qualcosa in termini di consenso, abbiamo messo l'Italia dalla parte giusta della storia. E a volte non bisogna pensare a ciò che è utile, ma a ciò che è giusto. Io lo penso sempre a ciò che è giusto, è quello che dovrebbero fare tutti i politici. È evidente che chiunque abbia maneggiato l'immigrazione, la cosa è successa anche a me, ha avuto dei danni sia elettorali che in termini reputazionali, però credo che adesso la verità stia venendo a galla e stia emergendo con grande forza. È chiaro che occorre che l'Europa sia capace di eseguire, di realizzare le decisioni già assunte, perché la paralisi delle decisioni provoca la sfiducia nell'Europa che a sua volta provoca la nascita degli estremismi.